Don Giosi, Don Giosi Cento, questo appuntamento era mai diventato tradizionale, fisso, la mini staffetta dedicata ai ragazzi tra il cielo e la terra, un titolo che dice tutto, tutto, non c'è bisogno di spiegarlo. Lei Don Giosi ha detto delle parole molto toccanti, molto forti, molto significative, ci hanno fatto riflettere e le ha dette ai ragazzi ma anche agli adulti, a ogni essere umano io credo, ovvero amate la vita e lei ha sottolineato perché amate la vita è una frase che letta superficialmente può voler dire tutto e niente, ma lei ha specificato, ha sottolineato cosa significa amare la vita. Lo vogliamo dire a chi ci sta ascoltando perché questa è una trasmissione che l'ascoltano i giovani, gli ascoltano gli adulti, gli ascoltano le persone anziane, lo ascoltano gli adolescenti, che cosa significa amare se stessi? Perché poi amare la vita significa amare anche se stessi. Mi sembra il messaggio più forte del Vangelo quando Cristo dice ama il prossimo come te stesso, ma se tu non ami te stesso e ti butti via, non stai amando la tua vita e non ha senso. Se la sera non puoi dire a te stesso che quel giorno hai amato la vita, hai vissuto la vita perché la devi vivere in pienezza e questo è il messaggio cristiano più bello che ci dicono che è vecchio, ma quello nuovo qual è? Drogarsi, andare in tutte le sagre dell'estate a rovinarsi la vita, andare a bere in tutte le feste della birra, andare dove? Cioè l'uomo deve rientrare in se stesso e deve trovare questo pezzo di infinito che c'è dentro. La vita più grande che noi ci portiamo addosso è quella interiore perché è quella più grande e è questa che va coltivata nei figli e in tutti. Io ci credo. Poi la vita va donata perché la vita tenersela oggi ci si sposa tardi, si prendono tante scuse, si convive, ma mi sembra che ci stiamo togliendo certe cose meravigliose come la più grande sulla terra, la più grande opera d'arte è un bimbo, ci perdiamo gli occhi che noi abbiamo fatto generando un bambino. Per cui un documento al quale ho partecipato anch'io nella chiesa del sinodo dei giovani dice giovani siate generativi, che non significa solo mettete al mondo dei bambini, si vi anche generate nuovi modi di vivere, siate creativi nell'inventare la società, la famiglia, la coppia, cioè non dite se è fatto sempre così, rifiutate ciò che è vecchio e che può anche essere sbagliato, però fondatevi su dei valori, mantenete i valori che sono stati veri e su quello costruite tutto quello che vi pare. Ma chi ve lo impedisce ragazzi di costruire con creatività tutto quello che sentite con tutta la modernità? Io amo la modernità. Perché? Perché mi permette di vivere quello che non ho mai vissuto. Io sono nato nel dopoguerra, sono 50 anni che sono prete e sicuramente oggi sto amando delle novità inedite che i ragazzi stanno veramente portando avanti e sono sorpreso di quanto sono profondi e di quanto sono in gamba questi nuovi giovani. Don Giosi lei ha dato, ha fornito una comunicazione, un dato statistico allarmante, quantomeno diciamo che ci fa riflettere, ci fa interrogare, soprattutto interrogare, ha detto la seconda causa di morte tra i giovani è il suicidio. È pazzesco questo dato, è pazzesco. Posso anche aggiungerti che in Germania ancora peggio, il 15% degli adolescenti si suicida. Ora noi non andremo ad analizzare tutti i motivi per cui questo avviene, ma sicuramente c'è un disagio riguardo al non voler vivere questa vita che ci siamo organizzati in questo modo. Cioè questo mondo di oggi. Io ricordo un ragazzo che il venerdì, che il martedì mi abbraccia e mi dice Don Giosi io non voglio vivere più in questo mondo. E io lo invito la domenica all'inaugurazione di una croce di queste e la domenica c'era il funerale perché lui il sabato guarda un po' aveva preso una croce e si era buttato giù dal ponte di Vulci. E io ho detto ma noi abbiamo tante responsabilità che noi diciamo sono della società, sono dei politici che blaterano parole e basta. Sono anche di noi, della Chiesa, che abbiamo delle responsabilità e forse abbiamo rinunciato da almeno 30 anni a gettare questo ponte con le nuove generazioni perché non è un ponte facile. Però è un ponte bellissimo perché entrando nelle anime dei giovani, a me succede spesso girando il mondo, io dico che è la felicità più grande di un adulto poter affacciarsi solo all'anima di un ragazzo. Ora per gli adulti ci sono altre motivazioni perché ci sono oggi troppe situazioni estreme, economiche, affettive, personali, sessuali, familiari, c'è un mischiamento di civiltà a cui non siamo pronti, cioè donne, uomini che provengono da altre mentalità, da altre culture che non sono la nostra e che ci portano su dei piani che noi non conosciamo. È tutto imbrogliato il sottobosco degli adulti. Cari adulti svegliatevi perché i figli sono già svegli. Don Giosi, le sue riflessioni credo daranno modo ai nostri telespettatori di pensare, di ragionare, di metabolizzare quello che lei ha detto. Adesso faccio una domanda che può sembrare banale, forse banale, però è la domanda che si fanno gli atei, si fanno i credenti, si fanno quelli che credono e non credono, sicuramente mi faccio anche io. Cioè, quando succedono queste disgrazie di un ragazzo che se ne va via troppo presto, la domanda è quasi naturale, ma perché Dio vuole questo? Perché Dio permette questo? Se io sapessi rispondere, sarei Dio. Ma io non sono Dio. Mi dispiace. Io accompagno i perché, condivido i perché, lancio a Dio umanamente i perché, piango con le famiglie gridando perché. Credo che si potrà scoprire soltanto nell'ultimo respiro della vita. Per questi genitori c'è un desiderio. Non gli importa di morire quando. Loro dicono se muoio almeno vado da mio figlio. Noi abbiamo avuto due mamme che sono morti davanti alla tomba dei figli. Per dirti quanto era il desiderio di entrare là dentro oppure di tirarli giù dal cielo. Perché c'è questa tentazione di andare da Dio e se si riesce a rubargli di nuovo i figli e rimetterli in questa terra. Noi ringraziamo Don Giosi per queste parole, per queste riflessioni, per queste valutazioni che vorrei dire, Don Giosi, mi permetta, sono fatte da un uomo, poi anche da un sacerdote, ma principalmente sono fatte da un uomo che ha maturato la propria esperienza con la conoscenza di tante persone, di tanti episodi, di tanti contesti, perché lei è un uomo e un sacerdote che gira nel mondo, conosce e quindi fa esperienza di questo. Quindi noi la ringraziamo di questo. peraltro lo dico, questa è una notizia, la sigla della nostra trasmissione Kergma è tratta da una canzone di Don Giosi e lei compie quest'anno 50 anni di sacerdozio. Noi recentemente abbiamo dedicato un paio di trasmissioni a tre sacerdoti che hanno festeggiato i 25 anni, Don Tito, Don Tito Testi, Don Gino, Don Gino Governi e Don Giuseppe, Don Giuseppe Benetti, i suoi amici. Lei 50 anni ma ancora giovanissimo, in cattedrale Don Luca, il parroco di Pitigliano, nonché vicario della nostra diocesi, Don Luca Caprini, le ha fatto gli auguri, c'è stato un applauso scrosciante e poi le ha fatto un piccolo omaggio. Al di là di questo però, le vorrei chiedere le sue riflessioni. 50 anni di sacerdozio, lei l'ho un po' accennato prima quando parlava ai genitori, ai ragazzi, ha detto una frase, la dico a beneficio dei telespettatori, poi magari lei la elabora come crede, dice uno tempo fa mi ha detto ha buttato 50 anni della sua vita. No, in 50 anni ho incontrato milioni di persone, ma non le ho incontrate così transitando. Le ho incontrate significa entrare in connubio, avere feeling, scambiarsi i pareri e magari unire le sinergie e le forze, è così Don Giosi? Portare i pesi, i pesi della vita e le gioie della vita. Io dico che i 50 anni di vita di prete è un romanzo, è un film dove c'è dentro tutto di tutto. A me piacerebbe molto che la gente conoscesse la vita vera, intima del prete. Io ho provato a spogliarmi in qualche occasione e a dire ecco, questa è la nostra vita. La gente purtroppo molte volte ci conosce per i servizi, per i battesimi, per i funerali, per mandare i figli al catechismo, non mandarli, per litigare col prete o per andarsi a confessare, ma il prete chi è? Il prete è una persona innamorata, che non si è innamorato di una cosa o di un ruolo, si è innamorato di una persona che è Gesù Cristo. Io ho una persona divina da amare e voi non potete sapere, voi che avete esperienza soltanto di amore umano che vi sembra infinito, di un figlio che vi sembra di toccare il cielo. Quando tu ti senti amato, avvolto dall'amore, dall'amore vero di Dio, è irresistibile. Io non avrei mai svenduto la mia vita per un amore che era inferiore a quello che avrei trovato sulla terra. Perché la dovevo svendere? E ho detto, io te la do, però se tu mi dai di più di tutti questi. Ricordo una ragazza con la quale simpatizzavo nell'adolescenza e poi facevo il grest, suonavo la chitarra, facevamo il gruppo con le canzoni, facevamo i matti come tutti i ragazzi di 18 anni, 19 anni. Questa ragazza che era veramente molto intelligente, più di me, mi disse, senti, io ti posso dare un figlio, due figli, tre figli, tu ne vuoi troppi, va per la tua strada. Ringraziamo Don Giosi, grazie e grazie anche per questi 50 anni. Ciao fratelli. Grazie.